L'infezione si sta propagando più velocemente del previsto Chiudete il caccello Ci sono i nostri uomini laggiù Fatelo e basta Fate venire i rinforzi Che cosa ci fate qui, agente Ashley? Aspettiamo rinforzi Sono arrivati L'ombrella vuole distruggere Mandello? Ne hanno molti, ti muoare Gentile omaggio dell'ombrella corporation Con quella cosa puoi fare? Mi vedete è munizione Qualunque cosa accada Non ti guardare mai via Ehi Oh bella Oh bella Grazie a tutti